L'Anghirano L'Anghirano è la capitale riconosciuta del prosciutto. Terra caratterizzata dalla lavorazione e stagionatura delle carni suine e collocazione ideale per il museo, che è situato nei locali restaurati dell'ex foro Boario, edificio del 1928 dedicato alla contrattazione del bestiame. Il percorso espositivo ricostruisce da una parte il processo di produzione dei pregiati prodotti dell'arte salumaria parmense dal suino ai salumi, dall'altra costituisce una sorta di viaggio ideale dall'antica norcineria fino alle metodologie della produzione odierna. Otto le sezioni tematiche, che esibiscono materiali fotografici, documenti storici e proiezioni audiovisive dedicate al territorio, alle razze suine determinanti per la qualità dei prodotti, al sale e al suo fondamentale ruolo alimentare, storico e politico, alla norcineria e ai suoi gesti antichi, alla lavorazione del prosciutto e al ruolo del Consorzio del Prosciutto di Parma nella salvaguardia della qualità. Grazie. 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 Grazie.